Ciao ragazzi oggi vi farò vedere una dashcam dal futuro Ciao ragazzi oggi vi voglio parlare di una dashcam abbastanza diversa dalle altre perché? Perché è una... allora innanzitutto che cos'è una dashcam? Una dashcam è una telecamera che si va a installare in auto e ci permette di tenere traccia di quello che succede mentre stiamo andando in giro mentre stiamo guidando o su alcune un po' più evolute anche mentre siamo parcheggiati quindi cosa succede? Che mentre io vado lei va a registrare sempre in modo fisso tutto quello che succede fuori dall'abitacolo noi la attacchiamo all'interno vicino allo specchietto di solito e lei andrà a registrare tutto quello che succede fuori quindi nel caso di un incidente noi avremo una prova di quello che è successo e quindi se avremo ragione potremo dire no guarda quello lì mi è venuto addosso mi ha fatto questo, quello e quell'altro oppure potremo creare dei fantastici video di gente che fa cose strane, cose stupide per metterli sui social e far divertire il mondo e lo so che anche voi andate a guardare i video di gente che fa cose assurde in macchina corto di non avervi detto di cosa stiamo parlando è una dashcam della Xiaomi o meglio di una controllata della Xiaomi che è la 70MI e la dashcam è la 70MI Omni comunque qua sotto trovate nella descrizione tutti i link, tutte le informazioni gentili che vi servono ma dicevamo che c'è anche la possibilità di registrare mentre siamo parcheggiati quindi noi lasciamo la macchina parcheggiata e lei nel momento in cui qualcuno magari in un parcheggio ci viene addosso si attiva e va a registrare quello che succede attorno bene questa telecamera oltre a fare questo e lo fa anche bene aggiunge altre cose perché? Dico che lo fa anche bene perché c'è la funzione di salvataggio automatico di momenti particolari ad esempio prendete una botta tipo un incidente lei in automatico vi va a salvare quel pezzo di registrazione siete parcheggiati lei va a registrare sempre in modo fisso va a fare un timelapse e nel momento in cui sente la botta di qualcuno che vi è venuto addosso allora va a registrare quello che è successo in quel momento partendo da un po' di secondi prima a un po' di secondi dopo in modo da far vedere tutto quello che è successo oltre a fare questo rileva anche se c'è qualcuno che vi sta che passeggia attorno alla macchina diciamo ok? e quindi cosa va a fare? Va a attivarsi in una modalità di allerta accende anche la lucina rossa attorno e vi va a avvisare che o meglio vi va a avvisare va a farsi notare da chi c'è fuori che vi sta guardando dentro o magari che sta semplicemente passeggiando in modo da allertarlo un attimo e dirgli ehi vai a rubare da un'altra parte perché qui sei registrato e la cosa bella è che lo segue anche lo segue cosa vuol dire? vuol dire che questa dashcam ha una particolarità bellissima ovvero che gira gira sì lei è attaccata lì al vetro e nel momento in cui rileva un qualcosa di sospetto attorno oppure glielo posso dire anch'io lei va a girarsi e cerca il mio soggetto e lo va a seguire è bellissimo è una funzione bellissima una precisazione quando la comprate c'è un cavo originale che vi permette di collegarla accendisigari cavo anche lungo e la vado ad alimentare oltretutto sull'accendisigari ho anche un'altra presa usb vuota che mi può servire per caricarci il cellulare o per fare altro e in questo modo però sarà funzionante solo mentre noi stiamo guidando per avere anche la funzione di registrazione mentre noi siamo via serve un cavo diverso è un accessorio opzionale che si compra a parte non costa neanche tantissimo e vi consiglio di prenderlo direttamente in kit quando acquistate la telecamera ma 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 attenzione io l'ho acquistata in prevendita quando stava per uscire e quindi c'era solo questo kit qua adesso esiste anche la possibilità di acquistare un cavo che ha le stesse funzioni di questo cavo opzionale quindi che ci dà la possibilità di guardare di registrare mentre siamo fermi parcheggiati mentre l'auto è parcheggiata chissà dove o in questo caso il camper che è una funzione molto interessante secondo me ma con questo accessorio che è appena uscito ha anche un modulo 4G questo ci permette di andare a comunicare a distanza quello che sta succedendo e questa secondo me è la vera svolta perché va bene tutte le funzioni che vogliamo va bene il fatto che registra che fa qualsiasi cosa ma se io sono un malintenzionato e vengo a rubare in auto o nel camper o roba del genere ci metto niente a prendere e staccare e portarmi via e ciao le tue registrazioni non servono assolutamente a niente sì servono se fai un incidente servono se qualcuno ti dà una botta in un parcheggio servono per queste cose ma rimangono lì devi essere vicino con il cellulare la telecamera crea una sua rete wifi a cui ci si connette con il cellulare e si vanno a scaricare i video ma in questo modo con questo accessorio aggiuntivo modulo 4G che non ho purtroppo ma che acquisterò io posso andarla a controllare da remoto quando l'ho acquistata avevo chiesto a un ho visto il video su youtube e ho chiesto a questo youtuber ma quindi si connette il wifi quindi si la lascia connessa a un wifi posso controllarla da remoto anche senza acquistare questo modulo sì sì vai tranquillo la connette al wifi no io qui camper ho una rete wifi ma non si connette a un altro wifi lui emette una sua rete wifi a cui io col mio cellulare mi devo andare a connettere per andare a impostare le varie cose scaricare i filmati a fare queste cose quindi no anche se ho una rete wifi non posso controllarla da remoto ma andiamo a vederla un po' più nel dettaglio andiamo a vedere com'è fatta allora io in questo caso non l'ho collegata direttamente alla chiave come andrebbe fatto perché la sua installazione corretta sarebbe lo colleghi alla chiave per cui quando l'accendi passa direttamente in modalità registrazione da viaggio diciamo e nel momento in cui vai a spegnere passi in automatico nella modalità registrazione da parcheggio dovendo volendo acquistare questo modulo aggiuntivo 4G ho messo tutto provvisorio e l'ho collegato a un interruttore per cui adesso guardate che bel paesaggio che c'è qua fuori ma guardate che bello che è quella lì è Stradella la città in cui vivo in Oltrepo Pavese e qua ci sono le fantastiche colline dell'Oltrepo di cui vi parlo sempre e spero che voi siate già venuti a visitarle perché sono uno spettacolo ok dicevamo io qui ho messo il mio interruttore in questo modo quando vado a attivarlo o disattivarlo io vado a passare in modalità parcheggio o in modalità viaggio ora lo vado ad attivare e vedrete che lei vedete che ha girato ok magari metto qua così siamo un po' il contro luce ok nel suo schermino ora mi sta dicendo che sta registrando spero che si vede no non si vede un bel niente molto bene sovresponiamo un po' ok perfetto vedete ora sullo schermo mi dice che sta registrando mi fa vedere quello che c'è fuori nel momento in cui io vado ad attivare la modalità scusate le riprese ma ce l'ho a mano libera la modalità parcheggio lei mi saluta ecco tutte delle animazioni bellissime accesso alla modalità di ripresa temporizzata ok vedete che gira fa il suo test e va in modalità ripresa temporizzata che è quella da parcheggio nel momento in cui io vado a reattivarla quindi vado a girare la chiave per accenderlo lei si reattiva e va in modalità registrazione ok in questo caso non è successo niente ma se io avessi se fosse successo qualcosa nel frattempo lei mi avrebbe detto ehi stai oh mamma lei mi avrebbe detto ehi stai attento perché mentre non c'eri ho registrato qualcosa di particolare qualcosa di strano qualcosa di di cui qualcosa che dovreste andare a rivedere ora facciamo una cosa facciamo una prova andiamo a metterla in modalità parcheggio quindi lei mi andrà a salutare e mi dirà ciao io vado in modalità parcheggio accesso alla modalità di ripresa temporizzata ok vedete oh sono contento che l'abbia fatto anche adesso che cosa che si è bloccata perché è proprio una delle cose che volevo dirvi allora questa telecamera adesso passo modalità all'altra e poi torno qua no ok ogni tanto cresce ogni tanto il suo software fa abbastanza schifo quindi stacco riattacco vedete è così adesso si è ripresa riparte ok e ora facciamo una prova oh vedete 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 adesso mentre era in modalità ripresa temporizzata io ho ho chiuso la portiera lei è andata un attimo in allarme e ha girato e ha controllato tutto ora che sono qua davanti in teoria lei dovrebbe accorgersi che c'è qualcuno davanti e dovrebbe seguirmi ok vedete che a volte lo fa a volte no ok no no vedete se ne accorta sta controllando è andata in allarme allora perché vi faccio vedere questo perché perché a volte funziona ma a volte no cioè bella bellissima funzione ma che dovrebbe essere migliorata un pochino nel senso lei ha lei ha delle grandissime potenzialità il fatto di seguire il soggetto di fare tutte queste cose è bellissimo se funzionasse sarebbe stupendo il problema è che non sempre funziona non sempre riconosce le cose non sempre fa quello che dovrebbe fare ok ok adesso mi sta seguendo adesso si accorta e mi sta seguendo vedete 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 cerco di inquadrarvelo ok che brutta ripresa che sto facendo ok non so se vedete c'è un po' di riflesso adesso cambio lato vedete che lei mi segue e sì va abbastanza bene non posso dire oh mio dio no non funziona perché non è vero però non è perfetta e è giusto dire anche che ha il costo di una dashcam normale ma ha delle funzioni in più quindi ok non funziona queste funzioni in più non sempre funzionano però come posso dire tenete conto del prezzo ok quindi tenete conto del prezzo cioè se volete una dashcam perfetta probabilmente ci sono altri prodotti con altre fasce di prezzo volete una dashcam da spendere poco questa va alla grande ma non è perfetta è giusto saperlo è giusto direle queste cose ho visto tanti video su youtube di questa dashcam e tutti fanno vedere wow che belle funzioni sì è vero sono bellissime ma non è che è tutto perfetto ha i suoi problemini trascurabili eh trascurabili assolutamente potrebbero essere risolti con aggiornamenti software non ne ho ancora visti sinceramente ne era uscito uno appena è uscito la telecamera ma poi basta non ce ne sono stati più e e basta spero che riescano altri aggiornamenti che migliorino questi problemi vi faccio vedere nel frattempo come si vede da telefono perché è assolutamente importante anche l'interfaccia da telefono appena trovo il telefono ok qua allora prima di tutto prendiamo apriamo l'applicazione poi attiviamo la modalità viaggio diciamo quindi usciamo dalla modalità parcheggio in questo modo lei si riattiva al 100% delle sue funzioni durante la manovra di parcheggio sono stati rilevati eventi anomali per vedere il video del parcheggio guidato accedere all'album della dash camera ok avete sentito lei ci dice guarda mentre ero in modalità parcheggio è successo qualcosa di anomalo eravamo noi che giravamo qua davanti andiamo a connetterci alla dash cam quindi andiamo a connetterci al suo wifi ok eccolo vedete l'operazione è abbastanza semplice non è immediata però è abbastanza semplice i dati della traccia sono stati sincronizzati correttamente perché? perché comunque lei ha un gps lei ci dice sempre dove siamo ci dice a che velocità stiamo andando ci dice tante informazioni adesso vi faccio vedere vi ne faccio vedere alcune possiamo andare a scattare anche una foto volendo possiamo andare a fare un po' di cose possiamo andare a fare la calibrazione del del sistema che gira ma soprattutto possiamo andare a vedere tutti i nostri filmati una cosa bella di questa telecamera e di questa dash cam è che non va a registrare su una scheda di memoria su una micro sd ma ha una sua memoria interna questo è bello perché perché ci andrà a garantire sicuramente una longevità maggiore quindi la sua memoria interna con cui è stata costruita sicuramente avrà una vita più lunga avrà un'usura minore rispetto a una scheda di memoria ma proprio per come è costruita sarà anche più veloce eccetera 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 e soprattutto è la sua e sicuramente funzionerà andiamo a vedere nella cronologia questo è tutto oggi benissimo ok bene 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 vediamo un po' ok allora possiamo anche andare a scaricare il nostro il nostro video in questo caso vedete c'è ad esempio ci scarichiamo tutto questa fase di timelapse che era comunque cortissima poi magari ve ne faccio vedere qualcuno un po' più un po' più interessante vi facciamo vedere questa fase di errore cioè di errore di allerta anzi vediamo quella prima che sarà quella in cui ero ero lì che che mi ha riconosciuto il download è abbastanza rapido per i filmati brevi ma abbastanza lento per quelli lunghi quindi se dovete scaricare qualcosa perché c'è stato un incidente è rapidissimo se dovete scaricarvi il filmato di il timelapse di tutto una nottata non è molto veloce una cosa molto interessante è la funzione di ecco vedete qua questa linea rossa è un vedete standard e poi passa a emergenza emergenza è perché ho preso una una buca possiamo sovrapporre anche gli effetti visivi è quello che chiamano effetti visivi RS quindi ci andrà a dire un po' di informazioni vedete che quando arrivo qua in emergenza ci sarà stata sicuramente una buca esatto ho preso una bella buca ci va a dare un po' di informazioni come l'inclinazione orizzontale l'inclinazione laterale la velocità ci fa vedere tutto il percorso ci fa vedere la forza G ci fa vedere anche una cosa che non so cosa sia là in alto e vediamo un po' potrebbe essere la quota 183 potrebbe essere il numero di metri sul livello del mare però quel disegno che c'è lì non so cosa sia e vi faccio vedere anche un attimino come vengono i i video registrati attenzione 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 giusto sì no vi faccio vedere qualcuno che ho già che ho già salvato prima ad esempio questo è uno dei video di allerta mentre lei mi ha riconosciuto vedete che mi segue mi segue per andare a farmi vedere chi c'è attorno chi c'è a chi è la persona sospetta che c'è attorno al al veicolo qui è dove cercavo di farvi vedere le riprese bruttissime ha ripreso meglio lei la qualità video è ottima è in full hd posso scegliere tra 30 e 60 fotogrammi al secondo e vi faccio vedere anche qualche altro video magari vi faccio vedere un non so cerchiamo se ho un timelapse sì questo qui è un timelapse per cui macchina parcheggiata modalità parcheggio e lei riprende tutto quello che succede compreso il simpaticone che vi parcheggia attaccato al attaccato alla macchina in divieto di sosta in mezzo ad un incrocio e se ne va via per ore e ore e ore voi dovete uscire e non potete uscire perché c'è uno che vi ha totalmente imbottigliato grazie 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 parcheggiando in divieto di sosta in mezzo ad un incrocio complimenti e potete andare a vedere tutto il il percorso che avete fatto ad esempio questo è un un rientro che avevo fatto una sera vedete vi fa vedere proprio tutto il giro queste sono tutte cose sono tutti effetti visivi che vi potete andare a salvare che tornano comodi non possono servire soprattutto se fate i travel blogger se se vi servono video di registrazione particolari non è una telecamera da mettere sulla da fare i camera car sulle macchine da rally assolutamente però vedete che vi da comunque delle belle informazioni vi dice anche si vede anche bene di notte in questo caso cos'è che era successo ah si mi aveva attraversato la strada un leprotto che dovrebbe arrivare adesso più o meno vediamo vediamo eccolo lì vedete comunque l'ho evitato comunque lui lei riprende bene anche di notte funziona molto bene veramente è costruita molto bene ogni tanto ha qualche baghettino poi non so se questi baghettini sono dovuti anche al fatto di come l'ho collegata io magari dipende da quello però vedremo sicuramente vi terrò aggiornati su su come va su come si evolve ah poi altra cosa interessante ha una serie di comandi vocali comandi vocali vediamo se trovo qualche screenshot che ho fatto alle istruzioni eccolo qua voi potete mentre state andando come in questo caso dirgli ad esempio take a photo e lei fa la foto oppure ve la inquadro sperando di non fare un'altra ripresa terribile potete dirgli take selfie e lei si va a girare contro la rovescia e scatta la foto oppure gli potete dire ehm shot vlog e lei andrà a fare una ripresa di tutto quello che c'è attorno pronti per dire ciao alla telecamera ecco pronti per dire ciao alla telecamera dite ciao alla telecamera ciao telecamera ok io in questo caso come si dice l'ho montata un po' male e quindi mi riprende lo specchietto perché è esattamente lì davanti voi stateci attenti montatela montatela meglio tenetela piuttosto un filino più bassa se volete fare le riprese all'interno perché altrimenti rischiate che vi succeda come è successo a me e quindi andate a fotografare lo specchietto io sinceramente la lascerò lì ma sì magari un giorno la sposterò però per adesso la lascerò lì nella confezione sono venduti anche tanti una buona dose di di quegli adesivi che servono per incollarla al vetro e che tengono molto bene oltretutto sono facilissimi da mettere per cui se volete cambiare posizione non è un problema si può fare e cos'altro dire che vi aspetto nella handcard per una piccola suggerimento qualcosa che si può fare che non vi ho ancora detto bene eccoci nella handcard per un piccolo trucchetto allora se volete fare dei dei timelapse del vostro viaggio potete potete come mettendola in modalità timelapse diciamo in modalità parcheggio e andando a disattivare gli allarmi diciamo il rilevamento degli delle cose che succedono attorno allora in questo caso voi potrete andare a far registrare un filmato continuo di tutto quello che succede fuori già in timelapse già pronto che potete scaricarvi e andare a pubblicare ed utilizzare nei vostri video bellissimi questi sono veramente video di effetti li chiamano i drive lapse a dire la verità più che timelapse e possono essere una cosa molto molto interessante per i vostri vlog poi mi raccomando ricordatevi di metterla rimetterla a posto perché se no andrà avanti così a caso e non farà quello che dovrebbe fare bene vi saluto vi ringrazio per essere arrivati fin qua vi ricordo di iscrivervi al canale se volete rimanere aggiornati su tutte le prossime uscite anche perché come è capitato in questo periodo magari salto un paio di settimane per cui insomma quando uscirà il nuovo video vi arriverà la notifica se vi iscrivete al canale e attivate la campanellina se no iscrivetevi e basta e mi farete molto contento e vi verrà semplicemente suggerito nei vostri nei vostri video di youtube ciao a tutti vi ringrazio